La signora ha la pizza, il blu è la pizza, ecco qua, vedi che era facile, l'alcano, chi non ha il blu gli dai la lasagna, il blu ha la pizza, noi ne abbiamo la pizza, ma sono a dieta, non posso, non c'è problema. Beh, sembra bella quella lasagna, speriamo che sia anche buona, non ti inquadro, no, ho inquadrato la lasagna, tranquillo. Ce l'ho anch'io la lasagna, eh? Qui se avete bisogno di massaggi, di robe, c'è una fisioterapista che ci sistema tutti, ci mette tutti a posto, vero? Ti spezza in due, attenzione, ti spezza in due, ti prendevi... Ma ciao Ercole, visto che ci sono stasera, adesso vi faccio anche vedere, è andato davanti allo specchio. Grazie. Grazie.